Ciao da Paolo Savoldelli, sono il testimonia di MFI, l'azienda produttrice di questi caschi. Sono orgoglioso di comunicare la collaborazione con Safe2Go, la nuova associazione che ha come motto Io rispetto le regole. I nostri caschi hanno le luci, hanno le frecce, sistema brake system in caso di frenata, sistema bluetooth per parlare al telefono senza togliere le mani dal manubrio e si abbinano bene a questa associazione che ha come obiettivo il rispetto delle regole. Una pedalata che potrete seguire, a cui potrete partecipare, per comunicare proprio questo motto Io rispetto le regole. Ringrazio il sorriso di Elisa e il gruppo spostivo Fausto Coppi, la Nove Colli e la Gran Fondo della Versiglia e Roberto Sgalla, capo della polizia. E mi raccomando, pedalate sicuro, sempre con MFI.